. Una scelta quasi inevitabile. Quella dell'artista P.A.R.T.E.N.O.P.E.O. che ha preso atto della decisione del primo cittadino avellinese, annullando il concerto in concomitanza con la giornata di lutto nazionale proclamata per il 18 agosto, per i funerali delle vittime di Genova. . Secondo le prime indiscrezioni, il concerto di Clementino si terrà il prossimo 26 agosto.